Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi in modalità live su Streamlabs sto facendo questo video perché vorrei condividere con voi una soluzione che ho trovato e che probabilmente potrebbe essere utile a qualcuno di voi se mai avesse la stessa configurazione mia, se avesse fatto gli stessi errori miei, dopo l'aggiornamento di RaceRoom dove c'è il nuovo Force Feedback che devo ancora testare perché non ho avuto la possibilità, in cui praticamente il gioco diventa ingiocabile, praticamente è tutto rallentato, cioè le schermate dei menu sono tutto a posto, però quando si entra in gioco nel Force Feedback è tutto rallentato, come se la propria configurazione PC fosse nulla, che non valesse più nulla di colpo. Allora, qual è la soluzione? La soluzione è molto semplice e adesso ve la svelo. Allora ragazzi, per farvi capire il problema prima di dirvi la soluzione, come vedete è molto fluido, sta scorrendo molto bene, eccetera. Se io vado direttamente su Guida, guardate come è tutto rallentato e non ho Force Feedback, non ne ho, zero. Sentite l'audio? Tutto rallentato. Ingiocabile totale. D'accordo? Vedete? Non si può giocare. Tipo sto andando a 3 frame per secondo. Allora, qual è la soluzione? È di una semplicità assurda. Allora, usciamo. Cioè ragazzi, sono scioccato. Andiamo su impostazioni, andiamo su controlli, Force Feedback e vedete funziona il round ball del gamepad, basta toglierlo e funziona. Cioè io stavo per buttare al cesso RaiStrum, mi accordo che non è uno dei migliori, ho già espresso il mio parere anni fa, però cavolo, tutti questi anni in cui uno comunque si diverte, si fa, eccetera, andare a buttare al cesso un gioco per questo problema, insomma un po' mi dava fastidio. Guardate anche la velocità di caricamento, tutto cambia. Guida, Force Feedback, fluidità. Vedete la differenza ragazzi? Vabbè mi giro perché devo impostare il tutto. Ecco la soluzione ragazzi, togliere il rumble dei gamepad perché interferisce. Vai a capire perché, ma intanto la soluzione è qui ragazzi e quindi sono contento di averla condivisa insieme a voi, video brevissimo, vi ringrazio per avermi seguito, spero che questo abbia dato la soluzione a chi aveva bisogno come avevo io e quindi ragazzi, come al solito, vi ringrazio, lasciate un pollice in su se vi è piaciuto questo mini video e iscrivetevi al canale, visto che ci siete tante gratuite, attivate la campanellina. Vi ricordo che questa sera alle 22 c'è la Forfun Jasparina a 45 minuti, d'accordo? Alle 22, commento regia a cura del sottoscritto, come al solito vedete che ci divertiamo, ci sono ancora dei posti disponibili se volete su simdrivers.eu e poi settimana dopo ragazzi c'è una grande sorpresa. Ciao ragazzi, alla prossima!